Pala Sport di Andria a quasi due mesi di distanza dall'ultima volta. Torna il campionato di A2 dopo la sosta dello scorso weekend per lasciare spazio alla finaletti di Coppa Italia, vinta tra l'altro da una formazione pugliese, la Fuente Lucera e la Salinis ritrova quella che di fatto è la sua casa in questa stagione, dopo le parentesi alternate al Paladolme di Bicelli e al Paladisida Mario Borgia di Barletta. C'è la vice capolista Corigliano intanto sul cammino della formazione di Margherita di Savoia nella ventitresima giornata della regular season e la vice capolista del girone B sarà animata da grande voglia di riscatto in virtù della sconfitta casalinga, incassata prima della sosta contro il Latina, quella che ha permesso ai Pontini di operare il sorpasso in classifica e conquistare la leadership in precedenza, sempre di proprietà della formazione calabrese. Ci vorrà insomma la migliore Salinis per puntare a un risultato positivo contro il Corigliano al Palasport di Andria. Si giocherà sabato pomeriggio a partire dalle ore 16. Il successo esterno contro l'Augusta, che ha permesso ai Rosa Nero di ritrovare la via dei tre punti dopo quattro turni di astinenza, ha consentito ai ragazzi allenati da Domenico Lodi Spoto di preparare con serenità il delicato confronto con i calabresi. La Salinis tra l'altro potrà scendere in campo con la serenità tipica della squadra, che non avrà nulla da perdere. La salvezza, il vero obiettivo di questa stagione, è molto vicina e considerato l'andamento delle ultime tre potrebbe essere festeggiata addirittura in anticipo. Poi si vedrà per il quinto posto l'ultimo utile per accedere ai play-off. Non mancano delle buone notizie intanto per la Salinis in vista del match con il Corigliano. Torneranno a disposizione dopo lo stop per squalifica infatti Nardacchione, Pizzo e Colangelo, pedine fondamentali nello scacchiere di Domenico Lodi Spoto. Tre motivi in più insomma per credere nell'impresa.